Il controllo della tiroide è sicuramente consigliato per le persone che hanno una familiarità per patologia modulare o per alterazioni della funzionalità. Chi ha un riscontro occasionale per esempio di una massa alla palpazione del collo, che ha un riscontro occasionale durante altri esami per esempio facendo un ecodoppler dei tronchi sovraortici e ancora che è stato esposto a fattori di rischio per esempio in radiazioni della regione del collo. Chiaramente i gruppi di pazienti che hanno dei sintomi che sono ascriviti dalla patologia tiroidea, in questo caso è necessario il supporto del medico di famiglia o di altro specialista che individui nei sintomi della persona una possibile pertinenza alla patologia tiroidea, anche se comunque bisogna dire che talvolta la patologia tiroidea si presenta anche con una sintomatologia aspecifica. Inoltre un'altra categoria di persone che opportuno si sottopongano al controllo della tiroide sono le donne in età fertile che ricercano una gravidanza in particolar modo quando tale ricerca si presenta difficoltosa.